Buonasera a tutti, grazie per essere qui, ringrazio di questa chiarissima presentazione e iniziamo a parlare di design applicato al prodotto ceramico. Molti di voi frequentano scuole in cui si ha già a che fare con questa parola, però partiamo dall'inizio e partiamo da un concetto base che è quello della bellezza rispetto all'utilità e dell'estetica rispetto alla tecnica, perché design è un concetto tecnico ed estetico. Di solito agli studenti disegno questa piramide a scuola per fargli capire che le ispirazioni e la creatività sono delle idee che vengono a tutti noi e che però quando vengono utilizzate per degli scopi pratici, quindi per realizzare una sedia, per realizzare una casa, partono sempre da ciò che invece è utile e non è, cioè da quella che è la bellezza fine a se stessa e cioè l'arte. Quindi in cima alla piramide della creatività c'è l'arte fine a se stessa. A cosa serve l'arte? Pensiamo in teoria che non serve a niente. Un quadro invece non serve per mangiare, non è un bene primario, però serve per vivere meglio, perché tutti abbiamo bisogno di bellezza. Pensate che c'è uno studio recente che ha spiegato che ci sono proprio degli ormoni e dei ricettori psicologici che si attivano quando si frequentano mostre e si fruisce la cultura, quindi fa veramente bene, sia mentalmente che fisicamente. Il bello, fine a se stesso, come un quadro, come una scultura, influenza un'elite di persone, non tutti vanno a vedere delle mostre, però questa influenza si irradia in maniera piramidale, quindi si allarga, su tutte quelle che sono le arti applicate. Arte applicata significa la bellezza applicata a una funzione, ad un uso. Ecco allora che arrivano le discipline del design, della grafica, della moda, dell'architettura, della fotografia, dell'artigianato artistico per esempio. Andiamo a vedere una mostra e qualche anno dopo vediamo per esempio che certi colori o certe tendenze poi le ritroviamo anche in questi campi. Design che cosa significa? è una parola inglese, si pronuncia design o design, potete pronunciarlo alla stessa maniera e letteralmente significa progetto, disegno. Che cos'è un disegno, un progetto? È quello che segue un'idea, perché non c'è niente di più tangibile e reale di un'idea. Se io non invento, non penso qualche cosa, poi non la potrò mai disegnare. Quindi il disegno è la prima traduzione della creatività e dell'idea. Il sinonimo più utilizzato per design è quello di disegno industriale o design industriale. Quindi intendiamo in cinque punti comprendere che cos'è. È un'attività di ideazione, come dicevamo prima, e progettazione. Quindi dal disegno, dallo schizzo e dall'idea passiamo ad una progettazione più chiara, con delle misure, delle dimensioni, le materie che possono tradurre questa progettazione. Oggigiorno per noi in campo ceramico spesso sono geometria proiettiva, geometria descrittiva, disegno tecnico, disegno CAD, 3D, vettoriale. Quindi un'attività di ideazione e progettazione che come dicevamo prima è applicata a un prodotto di uso comune e non a un bene di per sé semplicemente estetico. Realizzati con processi industriali, perché stiamo parlando di design industriale, quindi questa progettazione deve essere realizzata considerando un processo meccanico e tecnologico che si applica all'industria, quindi a essere replicato in serie, non a mano, ma industrialmente, in cui la tecnica e la funzione si uniscono alla valenza estetica, detta in parole semplici la bellezza di prima. È una sfida molto interessante. Il design nasce, per farvi una piccola cronostoria, dopo il futurismo, siamo noi in Italia fondamentalmente i pionieri di questa tipologia di progettazione applicata. I futuristi, boom, tang, zang, che cosa succede? C'è la guerra, con la guerra si inventa la polvere da sparo, arrivano le idee, quindi nascono mezzi di locomozione, mezzi di trasporto, la velocità diventa l'alba del nuovo progresso. L'arte contemporanea, come dicevamo prima, comincia a dipingere, disegnare, creare anche poesie, perché anche la poesia è arte tout court, no? E quindi, dal di qui, progettisti, architetti, perché una volta il designer era l'architetto spesso, iniziano a progettare delle macchine da scrivere, per esempio, che non servono soltanto per scrivere, ma sono anche belle da vedere, sono colorate, e anche gli oggetti d'uso cominciano ad avere una valenza estetica. Il design industriale per la ceramica è ciò di cui parliamo oggi. Il design, come dicevamo prima, si applica non solo alla ceramica, si applica a tantissimi ambiti, oggi addirittura non solo degli ambiti per creare oggetti, ma anche per creare concetti, anche si fa grafica e design grafico, quindi la grafica è una forma di design, non è soltanto questa. Ma oggi parliamo di ceramica. Vi ho messo il logo del Cersaie per farvi porre l'attenzione proprio su quella che è la specificità di un salone internazionale, che il mondo ci invida e che per fortuna è in Italia, perché abbiamo un primato e siamo al passo anche noi con i tempi e con gli altri paesi. È un salone internazionale della ceramica per l'architettura, poi anche della Redobagno, ma oggi parliamo di ceramica per l'architettura, perché è un termine così ampio che viene utilizzato e non diciamo ceramica per i rivestimenti, ceramica in maniera più specifica, non parliamo più oggi di piastrelle. Oggi la ceramica ha subito, anzi ha subito, ha cavalcato una grande rivoluzione, la quarta rivoluzione industriale. La prima l'abbiamo avuta in Inghilterra alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, con le prime fabbriche, chi è che qualcuno avrà letto Dickens, immagino, e i primi bambini che cominciano a lavorare da piccoli, e che cosa hanno fatto gli inglesi? Prima rivoluzione, hanno capito che le macchine erano molto importanti, ma era importante tutelare anche la piccola produzione. Ecco, la ceramica oggi subisce la quarta rivoluzione industriale, e che cosa ha portato? Ad un'enorme evoluzione tecnologica, che adesso vi andrò a spiegare, che non può fare a meno di un'evoluzione estetica. Normalmente lo sviluppo del design è preceduto e accompagnato dallo sviluppo della tecnologia, soprattutto, lo vedremo adesso in campo ceramico. Questa citazione l'ho presa e l'ho ascoltata una settimana fa da Eugenio Maria Emiliani, come leggete, che è il presidente della Fondazione MIC, il Museo Internazionale delle Ceramiche. Ci trova a Faenza. È, direi, uno dei musei più importanti al mondo per la sua collezione di ceramica. Quando parliamo di ceramica al museo intendiamo artigianato, arte contemporanea, design e industria, tutte le applicazioni eccellenti della ceramica. Bene, il direttore di questo museo, il presidente, scusatemi, di questo museo, è stato anche un dirigente di SACMI, che è una delle industrie più importanti al mondo per la costruzione di macchinari per realizzare la ceramica industriale. Quindi costruiscono proprio le macchine che poi vengono vendute e creano, sono parte di industrie. Quindi pensate che bellezza, quest'uomo è passato dalla tecnica alla cultura ceramica e ci ha spiegato chiaramente che viviamo un momento storico, meraviglioso, in cui questa grande evoluzione tecnologica ha un grande bisogno di creatività e l'una compensa l'altra come un tau. Andiamo a vedere come. Le principali innovazioni tecnologiche di questo settore, e le avrete viste sicuramente perché un giro ve lo sarete fatto di sotto, sono superfici di grandi dimensioni. Superfici di grandi dimensioni che spesso vengono chiamate lastre. Oggi non parliamo più di piastrelle semplicemente, per fortuna, parliamo di superfici. E parliamo di questo perché vi faccio un po' di storia anche economica. Negli ultimi dieci anni c'è stato questo grande cambiamento ed è dato dal fatto che tanti altri mercati, tanti altri paesi si stanno evolvendo. Ci sono delle economie che erano più arretrate e che molto velocemente si sono sviluppate. Per esempio tutto l'Oriente, la Cina, sono nuovi paesi dove il bilancio economico sta aumentando e dove ci sono tantissime famiglie e persone che hanno bisogno di realizzarsi case, centri commerciali, spazi pubblici e privati. E il materiale che viene utilizzato al 90% è la ceramica. Per un motivo molto semplice. La ceramica è performante, la ceramica è resistente e la ceramica ha delle componenti che battono gli altri materiali. Però aveva un grande limite e il limite era la sua dimensione. Le piastrelle venivano fatte con dei macchinari quadrati, avevano bisogno di stampi, quindi non potevano avere una dimensione grande più di tanto. Non vi sto a spiegare in maniera tecnica, in maniera troppo approfondita tecnicamente quali erano i limiti, ma comunque erano questi. Quindi la tecnologia ceramica è riuscita a creare dei macchinari che producono piastrelle, immaginatevi come delle tagliatelle molto sottili, l'impasto non è più come quello di una volta, cioè noi utilizzavamo degli impasti ceramici, adesso sono polveri, che su questi nastri creano delle piastrelle molto lunghe, molto sottili e anche larghe. Si chiamano lastre, arrivano anche a 4 metri quadrati. Questo che cosa ha risolto? Ha risolto un problema gigante, il fatto che possiamo sostituire la ceramica con altri materiali naturali. Esempio, quanti abbiamo visto palasti, centri commerciali rivestiti di marmo? Il marmo lo prendiamo da una cava, possiamo fare dei lastroni enormi, quindi non abbiamo problemi di fughe, quindi anche molto bello esteticamente perché la vena continua. La ceramica non poteva farlo questo, non era capace, non aveva i supporti tecnici, adesso sì. Altra cosa, lo spessore. Questo gress porcellanato, prodotto in lastre così sottili e flessibili ed elastiche, permette una capacità di rivestimento, quindi la piastrella non è più quella che va messa a pavimento o soltanto a muro, se il muro lo permette, perché deve essere resistente e forte. Adesso la piastrella è sottilissima, è come rivestire quasi un wallpaper, è quasi una carta da parati, pensate dagli spessori di un millimetro, è una cosa meravigliosa. Quindi oggi la ceramica è diventata anche un controsoffitto, sono delle pareti, sono dei mobili, avete visto qui in fiera che ci sono anche proprio dei mobili, dei desk, degli armadi che sono rivestiti di ceramica, non è completamente ceramica lanta dell'armadio di legno, ma sopra c'è un foglio di ceramica. Ecco perché è ceramica per l'architettura, perché diventa interessante per gli architetti, per gli interior designer, per chi progetta non soltanto il contenitore casa, ma anche il contenuto dell'arredo. Questa fiera, fino a dieci anni fa, come pubblico, aveva soprattutto il pubblico tradizionale che è quello dei distributori, cioè qui ci sono i produttori che espongono, poi vengono coloro che hanno la boutique, diciamo, o lo shop, dove rivendono prodotti di altre aziende. Adesso pensate che si è quadruplicata la presenza di architetti e interior designer, sono il 35%, parliamo di cultura. Io non ci credo che anche qualcuno di voi che non vorrà finire a lavorare in industria, ma che è appassionato per esempio di artigianato, non si sia divertito, non abbia visto del bello. L'avete sicuramente visto, perché non c'è soltanto rivestimenti, non sono solo pavimenti, non è soltanto tecnologia, ma c'è anche tanta bellezza. Altra grande invenzione che si unisce a quella della dimensione dello spessore è quella della stampa digitale, di questa tecnologia Inkjet. La conoscevamo per la carta, prima l'abbiamo fatto su carta, la stampa digitale, adesso si stampa sulla ceramica come su carta. Il pixel è diventato microscopico e possiamo stampare quello che ci pare, quanto ci pare, anche solo un file, solo per un pezzo. Pensate che meraviglia, l'architetto vuole una casa speciale, perfetto. Ci sono aziende che creano progetti personalizzati, ma sono industrie. Questa stampa digitale ha rivoluzionato il mondo. Ovviamente c'è stampa digitale e stampa digitale. Ci sono aziende che hanno una qualità potentissima di stampa digitale, con dei macchinari incredibili, altre che ce l'hanno, diciamo, un po' so and so. Ma comunque sappiamo che le tasche sono differenti, no? C'è chi vuole pagare una piastrella a 10 euro al metro quadro, chi la paga di meno e chi ha la cultura per comprendere che sta comprando una piastrella più costosa. Industria 4.0 ve l'ho messo sotto, c'è stato un interessante incontro anche ieri proprio sull'industria 4.0, forse alcuni di voi erano presenti, immagino di sì, dove si spiega che cos'è. Beh, stiamo assistendo a un processo di automatizzazione dei macchinari e delle industrie. Avete presente com'è il circuito di un computer che compra tutti gli elementi sono collegati, bene così stanno diventando anche le industrie e soprattutto quelle ceramiche. E questo permette una velocità incredibile nella realizzazione dei processi. Vantaggi ottenuti. I vantaggi, e parliamo sempre dei vantaggi anche per un designer che deve progettare queste cose, sono uno, qualità di risoluzione e di realismo, vuol dire che possiamo copiare gli altri materiali. Quindi se io faccio una lastra che sembra una lastra di marmo, sia a livello estetico, sia a livello tecnologico, come vi spiegavo, ancora più sottile del marmo, vinciamo perché la ceramica è altamente più performante di questi materiali, quindi la vendiamo. Ed è per questo che noi italiani abbiamo superato la crisi e stiamo continuando ad essere al passo con i tempi e con i nostri competitor. Secondo punto, efficienza maggiore rispetto ad altri materiali, come vi dicevo. Flessibilità e personalizzazione, appunto, nei formati e nei decori, li rendiamo assolutamente tailored. Ci stiamo rendendo conto che più la tecnologia va avanti e tutti compriamo all'Ikea, tutti vediamo i Ux, tutti abbiamo cose simili, tutti siamo tornati ad avere un grande bisogno di qualche cosa che abbiamo solo noi e soltanto i materiali caldi ce lo possono permettere e soltanto una forma di personalizzazione da parte delle aziende ce lo può dare. I materiali sono competitivi, come vi spiegavo, e un'altra cosa meravigliosa è il risparmio energetico. La ceramica è ecologicamente sostenibile, la ceramica è pulita, le aziende sono belle, sono meravigliose. Io vi invito veramente a fare delle visite guidate con le vostre scuole e andare a vedere oggi le aziende ceramiche come lavorano. Ci sono aziende che riciclano al 90%, al 99% tutti i loro materiali e questo è bene. Le applicazioni per la ceramica quindi sono aumentate, parlavamo di industria, parlavamo di architettura, oggi le superfici investono l'interno, l'esterno, diventano orizzontali e verticali, l'ambito è residenziale ed è contract. Che cosa ne deduciamo quindi alla fine? Che il nostro paese grazie a questo tipo di innovazioni creative e tecnologiche sta assolutamente portando avanti un prodotto di qualità e la qualità è sia estetica che tecnica, quindi c'è qualità nelle idee e nei prodotti. Pensate che l'Italia, il nostro paese per quantità di idee progettuali, quindi di prodotti che realizziamo come variazione cromatica e anche progettuale, sono talmente tanti che tutti insieme sono dello stesso numero delle produzioni che realizzano tutti gli altri paesi se le mettiamo insieme, cioè uniamo tutti i prodotti che creano i cinesi, gli americani, gli altri europei, bene, come numero di originalità e di creatività di prodotto noi italiani siamo al pari. Questo è il nostro know-how, questo è ciò che ci rende diversi e che ci rende ancora competitivi. Però ecco, vi ho scritto anche qui, nonostante i limiti siano al passo coi tempi. Perché i limiti? I limiti sono dati da tante cose, sapete tutti che abbiamo un governo con una burocrazia un po' difficile, che le nostre tasse sono più alte di quelle di altri paesi, che i nostri imprenditori devono anche per esportare pagare delle tasse negli altri paesi e che noi ne abbiamo di meno. Sappiamo che la materia con cui facciamo la ceramica non ce l'abbiamo più a casa. Io non so se avete dei pavimenti sicuramente di piastrelle nelle case dei vostri genitori o dei vostri nonni, quando si rompono sono rosse sotto. Una volta le producevamo con la terra delle nostre colline, adesso invece questi impasti di grass porcellanato li prendiamo dall'estero. E anche il gas con cui facciamo andare i nostri forni non è italiano, gas prom, sapete che non è italiano, per esempio sono i russi che ce lo mandano. Non nonostante tutto ciò pensate quanto siamo bravi, cioè non partiamo ai blocchi di partenza con le stesse potenzialità, noi abbiamo una piccola palla al piede e siamo comunque pari agli altri ed esportiamo all'80%, pensate che meraviglia. Detto questo ci chiediamo quindi chi progetta la ceramica industriale? Sembra una banalità ma chiediamocelo. Un'azienda che produce piastrelle come fa? Allora una volta, quindi parliamo anche degli anni 70, parliamo prima della crisi e anche dopo, c'erano degli studi interni di grafica, ci si rapportava a volte con gli artisti, adesso il gioco è cambiato, quindi questa stampa digitale che cosa ha fatto? Ha fatto sì che ci sia un gran bisogno di grafica e di progettazione grafica. Allora, la ceramica industriale viene progettata internamente alle aziende, quindi nei reparti grafici di ricerca e sviluppo dove ci sono dei team creativi all'interno che possono essere dei grafici che hanno fatto dei corsi di aggiornamento che già lavoravano lì oppure persone che vengono veramente assunte per le loro capacità e creatività. Soluzione 2, una progettazione esterna, sono nate tantissime aziende di servizio grafico per il prodotto ceramico, quindi io vado da questa azienda esterna, compro un progetto, mi piace questa idea per esempio, me la porto a casa e la elaboro, la finalizzo e la adatto al mio prodotto. Io per esempio sono un'azienda che fa delle piastrelle di grass porcellanato, grandi, con certi formati, con un certo tipo di impasto, adatto l'idea al mio prodotto, perché non c'è soltanto la grafica, poi c'è anche la forma e la fattibilità. Altro metodo è quello delle commissioni e collaborazioni con designer e architetti. Cosa succede? Succede che io per esempio sono un'azienda, voglio lavorare e darmi un'identità, perché qui parliamo sempre di identità e di riconoscibilità, chiamo un designer famoso di cui apprezzo appunto la progettualità, gli compro una collezione e la metto in piedi, la produco io, quindi associo il mio nome a quello di un grande designer. Oppure si possono essere altri tipi di collaborazioni, che potrebbero essere fatte con dei marchi della moda. Non so se qualcuno avete visto per esempio già da tempo, era successo già dagli anni 80, che aziende come Valentino, per esempio Versace, si erano legate ad alcune aziende per realizzare delle linee di ceramica che erano molto identificate con il tipo di style. Bene, adesso la cosa capita di nuovo e poi ne vedremo alcuni esempi. Oggi le collaborazioni non sono solo con marchi di moda come vi dicevo, con designer, ma anche con artisti possono essere realizzate. Oppure con grandi architetti, con grandi star. Quindi la produzione, altra cosa, può essere realizzata dall'azienda stessa, oppure l'azienda può semplicemente progettare con il designer e dare la realizzazione ad un'azienda produttiva. Ad esempio, ne vedremo una dopo che lavora in questa maniera. E adesso ci chiediamo invece, ma qual è la difficoltà per un designer nel progettare superfici? È quello di confrontarsi con una superficie. Qui non c'è la terza dimensione. Oggi vediamo che stanno cercando di realizzarla, ci sono tante superfici strutturate, aggettanti, a rilievo, le avrete viste perché sono bellissime, ci sono tanti esempi di sotto. Però parliamo sempre di superfici, ragazzi. E quindi, non avendo la terza dimensione, siamo limitati. È un limite molto grande, è uno spazio di gioco molto ampio, però comunque stiamo parlando di piani. Altra cosa, è molto importante considerare che quando noi progettiamo graficamente una superficie, ci stiamo confrontando con un elemento che va a rivestire uno spazio. La piastrella, la grande lastra, va a finire in cucina, va a finire in bagno, va a finire in uno spazio in cui tutti i giorni noi viviamo. Quindi dobbiamo considerare intanto chi è che va a viverci, che tipo di personaggio, di persona, e soprattutto deve convivere con degli elementi. In cucina, per esempio, ci deve stare un piano cottura, ci deve stare un armadio, le persone devono muoversi, calpestano. Quindi sappiamo che certe scelte non le possiamo fare. Non avrete mai visto, per esempio, una cucina fosforescente arancione, perché disturberebbe gli occhi, o anche certe forme di decorativismo figurativo. Vanno considerate rispetto all'ambiente, allo spazio e all'interazione dell'uomo. Adesso partiamo con alcuni esempi di progettualità applicata all'industria ceramica, così vedrete un po' cose che avete già visto anche di sotto, però le guardiamo in maniera un po' più organica. Allora, Marazzi, un'azienda molto interessante, che lavora veramente con grandi quantità di produzione e con sedi in Italia e all'estero, ha coinvolto un duo di, loro sono architetti e designer, hanno uno studio sia di progettazione di interni che anche di architettura, si chiamano Antonio Citterio e Patricia Viel, e la collezione che hanno progettato per Marazzi si chiama Grand Carpet. Partiamo quindi con una progettazione monumentale, col pensare in grande. Questi sono architetti, vi faccio vedere, che sono abituati a fare roba di questo genere. Quindi grandi buildings, vedete la modularità, la ripetizione di questi elementi quadrati, di queste fasce alternate marrone e bianche, guardate anche questo edificio, com'è connotabile, riconoscibile per l'importanza della superficie frontale. Ecco, la loro collezione, che si chiama Grand Carpet, è stata realizzata in grass porcellanato, ha due semplici varianti di colore ed eccola qua. La vedete? Qui la vediamo nello specifico, qui la vediamo all'interno di uno spazio salotto, qui la vediamo in uno spazio pubblico, qui la vediamo in un bagno. Allora, la collezione è ispirata ai tappeti orientali, quindi è un elemento che ha molto a che fare con l'interior, con l'interno delle nostre case e soprattutto con una cosa interessante, con la memoria e con le sensazioni e l'emotività, l'emozione. Perché quello che cerchiamo oggi giorno è questo, la tecnologia è fredda e attraverso l'arredo e la grafica e il design cerchiamo di ridare calore, ma non soltanto calore raccontato dal prodotto, ma raccontato dalla storia che c'è dietro. La loro idea è stata quella di ispirarsi al tappeto e anche all'usura dei tappeti, al fatto che tutti noi manteniamo questi oggetti nelle nostre case e nel tempo diventano anche oggetti di antiquariato, oggetti di presenza costante, tramandati, che confondono le trame. Che cosa hanno fatto questi due architetti per lanciare la loro collezione? Durante la Milano Design Week dell'anno scorso, quindi il momento del design più importante in Italia a Milano, hanno presentato con Marazzi questo progetto che è di rivestimento e di superficie, quindi diventano dei prodotti commerciali, come una specie di opera d'arte, cioè come installazione. Sapete cos'è un'installazione? Un'installazione è un'opera d'arte che a differenza di una scultura o di un quadro viene realizzata e costruita in sito, site specific, per un motivo e che spesso poi viene spostata o modificata. Ci sono anche delle installazioni permanenti, ma questa è un'installazione fatta apposta per questo momento. Che cosa hanno fatto? La loro idea di tappeto l'hanno stampata soltanto su uno dei quattro triangoli che vedete. Vedete che c'è una specie di croce, la croce è creata da degli specchi riflettenti che poi hanno quadruplicato l'immagine e l'hanno resa completa. Ogni piastrella è diversa, è stata stampata digitalmente per creare questo effetto puzzle, grande mosaico. Qui capiamo la potenza dell'industria, cioè la macchina può stampare tutte le piastrelle diverse per avere questo effetto inedito. Come vedete la dimensione delle superfici è 150x75 e sono appunto di grass porcelanato. Da quello è nata la collestione. Questa collestione si adatta all'interno, all'esterno, è molto sottile e come dicevamo prima ha due varianti molto semplici perché questo rossastro e questo sabbia si adattano benissimo a vari spazi e vedete come diventano decorativi e caldi ma non esagerati. Altro esempio è invece un'azienda che si chiama Cedit, a me piace tanto. Cedit dagli anni 70 collabora con designer italiani, quindi il suo è un progetto di ricerca legato proprio al made in Italy anche come progettualità. Hanno qui coinvolto un duo di designer italiani che tra l'altro l'hanno anche studiato a Faenza, all'Isia e poi si sono formati alla scuola di Eindhoven in Olanda, che è una delle scuole per il design più importanti sul globo terraqueo. Sono rimasti là, la stavano bene, la continuano a progettare. Sono tra i designer più giovani e più famosi che ci siano oggi perché riescono ad applicare le loro idee a tanti progetti, quindi ai mobili, quindi alla ceramica, quindi a oggetti grandi e piccoli. Hanno realizzato questa collezione che si chiama cromatica, come vedete i formati sono tanti, sono sia quelli grandi, 2 metri e mezzo per 120, 2 metri e 40 per 3,60, cioè immaginatevi una lastra del genere, 120 per 120, ma anche piccole 6 per 24, 12 per 24. Gress porcellanato, quindi resistente, 6 mm, quindi non super sottile, tante colorazioni. La loro ispirazione viene dal colore. Quale colore? Il colore dell'artigianato. Parlavamo prima di calore, di emozioni, di senso proprio, di un calore che sia anche emotivo e esperienziale e il colore che hanno scelto sono quelli della ceramica, quindi si sono ispirati ai colori della ceramica artigianale che ha gli smalti e che ha delle terre con dei colori più accesi. Ecco cos'è venuto fuori, vi faccio vedere però prima che cosa realizzano di solito in forma fantasma. Ecco, questi sono degli esempi di oggetti da loro realizzati, guardate che belli questi sgabelli di cemento e poi hanno queste collezioni sempre per la tavola, vedete bottiglie, ciotole, oggetti vari dove il light motive, cioè il filo conduttore, è sempre quello di una naturalità e di combinare materiali caldi. I materiali caldi sono quelli deperibili come noi, il legno, il vetro, la ceramica e via dicendo, il cuoio. Quindi qui ci sono queste cinture di tessuto e di cuoio, vedete come rimandi anche la scopetta dietro, il setaccio per la farina, ci raccontano un mondo, un'esperienza. Quindi se noi prendiamo un oggetto di forma fantasma sappiamo che il gusto è, il gusto madre diciamo, è questo. È di ispirazione nordica, come dicevamo sono appunto ad Amsterdam. Ecco degli oggetti per la tavola, vedete la ceramica sempre con legno, questo lampadario fatto a goccia con l'acqua all'interno, quindi questo senso proprio di naturalezza e di minimalismo. Ecco quelle loro piastrelle. Queste sono in elemento, la prima collezione di cromatica con i moduli piccolini, che possiamo chiamare piastrelle, e si nota come ci sono queste sfumature meravigliose in toni pastello, uniti anche agli elementi d'arredo. Ecco qua ha uno spazio grande invece con grandi lastre, vedete che sono sfumate, quindi proprio il senso di cromia, del cambiamento cromatico. Guardate questo spazio anche com'è interessante, la parte di sinistra è completamente matte, quella frontale invece è lucida, si dice lappata, è una tecnica di lucidatura finale di queste grandi lastre in sottofondo. E vedete che è uno stile unico, cioè il concetto non è solo legato alla piastrella, ma il designer ragiona a tutto lo spazio dell'interior, quindi alle poltrone, al gusto del tappeto, al piccolo ananas che vedete, ai puff che trovate e anche al tipo di pianta, che dà questa forma di esotismo e di freschetta. Ecco queste foto dall'alto, questo modo di fotografare dall'alto il design va molto di moda oggi ed è molto interessante perché notate sia gli oggetti naturali, sia il gioco con gli altri elementi e il pattern della piastrella, quindi la texture sfumata che fa da sottofondo. Passiamo ad un'altra collezione di Cedit, ve ne ho messe due e tre perché sono carine. Achille più Giacomo Castiglioni sono due miti del design italiano che hanno rivoluzionato anche alcuni concetti proprio di mobile e di maniera di intendere il vivere quotidiano. È una collezione particolare perché riguarda vasi. Cedit aveva già commissionato a questo duo di grandi designer una serie di vasi in piccola scala ed è una famiglia di tre vasi, sono identici ma cambiano solamente per le dimensioni. Nel 68, a 50 anni di distanza pensate, hanno deciso di rieditare la loro collezione perché l'avevano comprato ovviamente ai Castiglioni, il progetto era il loro, ma l'hanno rieditata con il loro ufficio grafico adattando le palette cromatiche alla contemporaneità e ispirandosi comunque all'epoca in cui questi oggetti sono nati. Questo è un lavoro molto interessante che oggi il design spesso deve affrontare, cioè quello di riprendere un oggetto o un progetto datato e riattualizzarlo. I Castiglioni, come vi dicevo prima, sono noti per questa roba qua. Arco, l'avrete tutti di vista, una lampada geniale di marmo e metallo del 62 o questo che è il mezzadro seed, meraviglioso, è la sedia appunto del trattore, la seduta di un trattore che diventa sgabello. E queste invece sono lapis, come dicevamo, sono questi vasi, guardate chi sono in particolare, chi hanno, che c'è Edit, che è un'azienda appunto di rivestimenti a rieditato. Arriviamo adesso invece a Zaven, che è un duo italiano, Enrico Carzavano e Marco Zavano, che hanno realizzato invece per Cedici una collezione che si chiama cromatica. Questo duo è noto per una serie di interventi e di progettazioni per l'arredo come queste. Guardate come poppe invece il loro lavoro, come meno minimalista, vediamo la banana, no? Pensate subito, spero, al Velvet Underground, a Vandy Warhol. Questi per esempio sono degli attaccapanni, semplicissimi. Vedete come giocano con la superficie, si integrano, diventano quasi un disegno a parete, diventano quasi un'installazione, sembra quasi un quadro, non abbiamo bisogno di mettere nient'altro. L'oggetto d'uso diventa già esteticamente arredante, consentitemi il termine. Questi sono invece delle piccole sculture che si inseriscono su queste basi per l'appoggio. Quindi il loro lavoro è molto più giocoso e molto più pop e hanno realizzato questa collezione che si chiama cromatica e hanno lavorato sulle superfici e sui volumi e le geometrie. State a vedere, eccola qua. Vedete questi elementi aggettanti di grande dimensione che si uniscono qui ad altri materiali come i tessuti e come le corde. sono molto potenti, sono tosti, colori sono forti. Come diciamo prima, la pop art, l'ispirazione è quella di grandi cromatismi. Ecco, guardate come diventano una volta assemblate, immaginatevi questo effetto ripetuto in grande. È una nuova collezione, quindi è stata presentata con dei pannelli che sembrano quasi dei quadri. Vedete la presentazione? Com'è particolare? Sembra quasi, si parli di arte contemporanea. Altro esempio, passiamo adesso invece ad artisti, pittori, scultori, chiamati da questa azienda per realizzare delle collezioni. Franco Guerzioni è un artista contemporaneo che lavora, un po' come faceva Rotella, ragionando sul concetto di antichità e di passaggio proprio di vissuto sui muri, sulle pareti, sulle strade delle nostre città. Questi sono i suoi quadri, tanto per farvi un esempio. Vedete che sembrano strappati, sembrano intonaci che ce ne sono andati. E per Cedit realizza una collezione che si chiama infatti Archeologie. E guardate com'è, eccola qua. Vediamo lo stesso gusto e la poetica dell'artista che viene declinata invece sul modulo. È ovvio ed è molto interessante vedere come l'artista con l'azienda poi hanno dovuto trovare la maniera per tradurre ciò che lui realizza in quadriformia, quindi in un quadro, per realizzarlo con dei materiali ceramici applicabili appunto a una serialità. Guardate che bello. I rilievi ci sono sempre e i tessuti e i colori sono sempre gli stessi e rievocano l'acrilico. Un altro artista è Giorgio Griffa. Griffa invece lavora su tessuto, dipinge con l'acquarello su tessuto sin dagli anni 60, molto noto più all'estero che in Italia. Queste sono le sue tele. Normalmente crea proprio queste tele di juta che appende con una stecchina leggerissima metallica. Questa è proprio un'esposizione in galleria del suo lavoro. Cedit l'ha coinvolto perché gli era piaciuta questa idea di cromatismi geometrici ripetuti. La collezione si chiama Euridice, non chiedetemi perché, legata a Orfeo ed Euridice, meraviglioso. I formati sono tanti e sono vari, quindi dal grande al piccolo e è interessante leggere come i titoli delle collezioni sono legati al suo lavoro perché si chiamano tela, obliquo, verticale, orizzontale, discendente, orizzontale e quadrato. Quindi riprendono la sua poetica di geometrismi. Grespo il celanato che sembra una tela grezza invece qui. La ceramica imita l'opera dell'artista riprendendo le texture e i rilievi che anche l'aiuta. Ed ecco che la memoria del gesto e questo effetto di stoffa vengono ripetuti in ceramica. Guardate che belli. Per degli ambienti commerciali o privati, guardate questo negozio semplicissimo, il suo pannello appunto beige con questi interventi che vengono realizzati ovviamente solo in un punto. Ecco qua la tavola. E passiamo adesso invece ad incontri di moda e di ceramica industriale. Andate a vedere, c'è questa azienda e c'è anche questo allestimento di sotto, Iris Ceramiche, un'azienda storica che da tanti anni lavora, ha già collaborato anche negli anni settanta con artisti, veramente un'azienda con le spalle larghe. In questo caso ha coinvolto la Diesel, Renzo Rosso. Sapete che Diesel per esempio ha lavorato già anche con la Ducati, ha disegnato la carenatura di un Ducati Monster, eccetera. Hanno uno stile aggressivo, un po' biker, ispirato agli Stati Uniti e a queste Easy Rider Way un po' borchiati. Quindi ovviamente la collezione che è stata realizzata in collaborazione tra lo studio grafico della Diesel, ovviamente con lo studio di Iris perché questi di ceramica non avevano mai fatta. E hanno realizzato una collezione veramente rock, un po' heavy metal che adesso vedrete, che è interessante anche per un discorso di comunicazione integrata. Vedete che nel logo che vi ho inserito, perché la faccia della Diesel del titolare era poco interessante. Leggete, come in, we are open, ce ne sono altre in cui dicono let's rock, perché vogliono far capire immediatamente qual è il target di riferimento. Abbiamo parlato prima del classico Grand Carpet, abbiamo fatto vedere Cedit con le sue collezioni con un gusto più popo, con un gusto più minimalista e scandinavo. Qui invece andiamo direttamente a parlare a dei giovani, a della gente che si sta facendo casa, che ha una cultura di questo tipo e che ha anche un carattere abbastanza tosto. Camino we are open è uno slogan direttamente imperativo, venite. Bene, guardate la piastrella, questa è già una piastrella, non è un'immagine. E l'ispirazione, ve la leggo un attimo, sono superfici quindi per la casa, pavimento ed everywhere all'interno, con l'imitazione e l'ispirazione a tessuti come tela, juta, finiture vessute come i jeans, ovviamente, il biker, i jeans, è molto, come vi dicevo, americano, e il sapore industriale e del vintage. Eccola qua. Questa collezione si chiama Stage e ricorda ovviamente quelle che sono i flight case da chitarra elettrica e i piani dei palcoscelici, quindi se vi volete sentire una grande rock star, compratevi Stage di Diesel. Il messaggio è molto chiaro, vedete che c'è la valigetta con i dischi in vinile, la pianta non è più una roba esotica e calmante, chic come era quella di forma fantasma, abbiamo invece una pianta punta, lanceolata, quasi metallica e questo effetto è appunto palco. Altra espirazione, leggete anche i nomi, camp la collezione, camp Mars, e il colore è camp armi blu, vedete che sembrano tutte quante toppe di jeans diversi, unite per creare una parete di questo tipo. E notate che l'oggetto che sostiene la lampada è una cassa, magari della Marshall, un'altra si chiama Grunge e riprendiamo Kurt Cobain che è tornato di moda come Nirvana e la colore è Rebel Black, cioè capite immediatamente il messaggio comunicativo e l'ispirazione di Diesel. Vedete che è tutto usurato. Quest'altra Cosmic Marble, qui invece se andiamo sul marmo diventiamo cosmici. Questo colore è il colore Moon, la collezione Cosmic Marble ha i nomi ispirati ai pianeti, quindi c'è Moon, Uranus, Mars. Vi ho messo Moon e vi ho messo anche Uranus, guardate questa quante flash, celeste con due belle poltrone sparate rosa, qui i contrasti sono proprio di casa. E funziona molto bene, se andate a vedere lo stand della Iris, che è molto bello, elegante, tutti marmi, molto chic, ha una camerina, un box chiuso dedicato a Diesel, buio, completo, il tavolo stage. Passiamo adesso a un altro tipo di gusto, parliamo di Mutina. Mutina è un'azienda che ha aiutato tanto le altre aziende, nel senso che intanto non produce, non la fa la ceramica, la progetta. E cosa fa di molto interessante? Dialoga col mondo del design e dell'arte contemporanea ed è stata una delle prime aziende che ha iniziato a produrre dei decori, permettetemi il termine, particolari e con un'identità abbastanza chiara e riconoscibile rispetto agli altri, quindi ha fatto un po' scuola. I suoi prodotti sono molto costosi, perché non vi ho detto questa cosa importante, vi sto facendo vedere delle collezioni di alta gamma, di alto livello, che costano dei soldi e che non tutti comprano, non solo per un fatto di tasca, ma soprattutto per un fatto di cultura. Cioè ci vuole anche una preparazione culturale per comprare una piastrella firmata Antonio Citterio, devi sapere chi è Citterio, devi amare il design e devi capire che questo tipo di progettazione e non solo di qualità tecnica ma anche estetica costa dei soldi. Quindi queste cose qui vengono vendute ad un'elite, elite per dire che sono poche, non perché sono diversi dagli altri, ma quest'elite che considerate in percentuale per il fatturato di un'azienda di questo tipo, come Mutina, è il 2%, 2, però questo piccolo 2% che è in cima alla piramide di prima, quindi è la gente che si compra anche i quadri d'arte contemporanea e che fruisce un certo tipo di cultura tutti i giorni, crea due cose. Uno, influenza il pubblico, fa capire, pensate ai cinesi, non tutti si compran le borse di Dior, però le tipe che non possono comprarsi la borsa di Dior se la comprano finta la borsa di Dior, quindi comunque influenzano un gusto e una percezione di gusto per il pubblico, quindi è una forma di educazione culturale. Anche per le altre aziende è la stessa cosa, le grandi aziende che possono permettersi degli investimenti così grossi, sia a livello industriale, industria 4.0 per esempio, o la super stampante digitale che costa centinaia di migliaia di euro, sono anche quelle che poi fanno vedere alle altre aziende di fianco a loro che sta nascendo un nuovo gusto e queste aziende poi le copiano e riproducono il bello a caduta, come la moda, c'è l'alta moda e c'è il pronto moda, c'è l'alta moda come Queen che ti fa la super sfilata e poi ci sono le aziende che vanno a fotografare la sfilata e di corsa a di corsa velocemente producono vestiti ispirati a quello e li fanno uscire al contempo, quindi questa è anche un'operazione culturale molto importante a cui oggi stiamo assistendo, quindi ci sono molte meno piastrelle brutte, si vendono se sono belle. Torniamo a Mutina, Mutina quindi investe quasi tutto in progettazione e in ricerca. Prima collezione, Patricia Orchiola, designer 50enne, molto famosa, molto famosa, ha progettato soprattutto delle sedute, delle sedie, dei divani molto molto belli e noti, guardate, questi sono i suoi ambienti, vedete com'è eclettica, eclettica vuol dire ispirarsi a tanti periodi storici e poterli inserire, mixare cose con ispirazioni diverse. Questi sono i suoi disegni e queste sono alcune delle sedute più famose da lei progettate e poi realizzate da aziende di poltrone ovviamente o di arredamento. Questo è uno stand della Orchiola che vi fa capire un po' qual è il suo tipo di progettualità e questo, guardate che bello, questo invece è una progettazione integrata, cioè questo è un ambiente salotto completo dove i tessuti sono protagonisti però diventa quasi uno spazio gioco, un playground, è tutto unico, è uno stile unico. Questo è per esempio, ah no mi sono sbagliata, aspettate sono passata alle piastrelle, quindi la Orchiola presenta una collezione che si chiama cover. Allora cover, che cos'è una cover? La cover di un disco, ok? È una coperta proprio. Grandi lastre, giganti, perché così dialoga con gli architetti, si tagliano, ci facciamo quello che vogliamo. Impasto ceramico con una micrograniglia sopra, quindi dove c'è una superficie ancora più preziosa al di sopra e queste trame colorate giocano su un discorso di figurazione e geometrismo. Adesso ce le guardiamo. Eccola qua. Allora questa è una piastella che vi sembrerà semplice, questa superficie, ma è veramente complessa e molto interessante, perché vedete come intanto c'è una forma di continuità, il disegno, anche vedete il taglio che c'è qui della superficie dietro al tavolo, vedete come la continuità, come è mascherato anche il taglio, crea un pattern veramente organico. E qui vediamo la preziosità del lavoro, nel senso che c'è una trama, mia micro trama, che gioca con una trama più grande. Le nuance sono semplici, su scale di grigio, quindi adattabili a tanti ambienti e l'ispirazione è appunto quella dei tessuti e dell'irregolarità. L'irregolarità è la parola d'ordine. Irregolare uguale unico, irregolare uguale diverso, uguale personalizzato ce l'ho solo io. Ecco qua degli altri ambienti, vedete queste fasce sono interessanti perché poi il cliente, l'architetto può giocare come vuole, quindi ha una originalità che può sviluppare dopo, può giocare con questo prodotto. E passiamo al mondo della musica, Lenny Krevis, questo ve l'ho messo pensando anche alla diesel, collaborazione abbiamo detto artisti, abbiamo visto gli architetti, abbiamo visto i marchi di moda, adesso vediamo anche come una rock star, come questo Lenny Krevis può aprire uno studio di design e di progettazione. Nel 2003 Lenny Krevis a New York ha aperto questo Krevis Design, potete andarlo a vedere su internet, ha un reparto di grafica molto importante, ci sta investendo un sacco di soldi, Lenny Krevis ha sempre amato gli anni 70 la bit generation e il tipo di design psichedelico, bridge e trile, non so se avete presente vasarelli, quindi tutta l'arte cinetica, questi elementi geometrici che poi ci sbarbagliano lo sguardo e sono molto interessanti. E quindi cosa ha fatto? Lea Ceramiche ha chiesto allo studio grafico di Lenny Krevis di progettare con loro, quindi insieme, questa è una collaborazione, non una commissione come abbiamo visto prima alla Cedit, una linea che si adattasse ovviamente ai loro materiali e questa è stata la chiamata goccia in italiano, è stata anche interessante la scelta del nome italiano, ha lavorato con gli smalti e anche con delle dimensioni che vedete piccole, 13x13 e 10x40, perché quel periodo storico appunto in cui l'arredamento e la psichedelia e l'op art erano avanzati, si lavorava con i moduli, i moduli quindi piccoli elementi ripetuti. Lo vedete già dietro ai prodotti realizzati, questi sono i due moduli, lucido e opaco sono le due alternative che rendono i volumi aggettanti e che danno appunto questo effetto già di ombra, quindi creano già una forma di volume e di scultura e anche di gusto all'ambiente e poi una volta replicati hanno questo effetto qua. Vedete? Anche qui quindi vediamo anche la semplicità e la scelta degli arredi che riprende il carattere di questi elementi modulari, infatti abbiamo un oggettino di pelle nera, come è un po' l'enni crevis. Adesso invece vi faccio vedere un progetto di mutina, come dicevamo prima, legato a un design contemporaneo, Raw Edges, sono un duo di designer marito e moglie, molto bravi e hanno ideato questa collezione che si chiama Folded, Folded vuol dire quindi piegato, come il foglio di carta che si piega. Sono due collezioni, Folded e Folded XL, lo capite già da subito perché è realizzata sia in grandi lastre che in elementi molto più piccoli. È un po' il concetto di origami che la carta si può rimpicciolire e ingrandire. Quindi i formatili, vedete, da un metro per tre metri le lastre grandi e 60 per 60 invece quelle piccole. I pattern sono miscelati e leggiamo che i tre pattern che poi vediamo, miscelati, nella scatola sono già diversi, quindi abbiamo già le varianti in scatola. Questa collezione si ispira, come dicevo, anche per evitare le fughe al effetto carta piegata. Adesso vediamo un attimo che cosa fa Rowedges a prescindere dalla ceramica. Questi sono dei loro oggetti d'arredo dove il lavoro sul legno è evidente, il loro è un lavoro che gioca moltissimo con queste sovrapposizioni geometriche. Vedete come sono belle queste palette di legni colorati e anche verticali. Queste sono invece delle sedute, sempre realizzate con tagli di legno e queste sono delle pavimentazioni in legno che vanno realizzato per un'altra azienda. Questa è la collezione Folded invece. È molto elegante, di gusto così un po' Japan. Guardatela, allora qui è nel 60x40 che vedete è più piccolo ed è molto intelligente perché vediamo che la fuga è funzionale al discorso della piega. Quindi, tac, non si vede più. Hanno però creato anche la collezione su grandi dimensioni. Guardate com'è presentata questa pulizia zen. C'è solo un ragazzo con la camicina chiusa, guru, giapponesino, però ovviamente è nordico il ragazzo che fa ancora più chic, fa più europeo. E abbiamo il grande box di trasporto, quindi significa che ci vogliono far già capire come lavorano. Siamo organizzati, ve la spediamo, siamo giovani e abbiamo tanta cultura. Questo è il progetto. Ovviamente si adatta a qualsiasi tipo di arredo. E adesso passiamo invece ad un'azienda, scusatemi, di dimensioni più ridotte, di Faenza, che lavora però con un livello di qualità molto alta, come quelle che abbiamo visto sino ad ora. Si chiama Gigacer e ha scelto appunto di produrre poco con un'alta qualità. Spesso alta qualità, oggigiorno vi faccio un micro approfondimento tecnico. Il grass porcellanato spesso è di due tipi, cioè questi impasti, immaginiamoci, si chiama sia a tutta massa oppure il grass può avere. O solo superficialmente essere colorato o stampato digitalmente, oppure può essere lavorato nella stessa maniera in tutto l'impasto. Quindi se una piastrella è nera, io la rompo, dentro è tutta nera, se è a tutta massa. Se invece ha solamente un lavoro superficiale, costerà ovviamente meno, se però la spacco, vedo di che colore è l'impasto all'interno. Gigacer lavora sola tutta massa, quindi per farvi capire che già il prodotto è alto, è costoso, è di alta qualità a livello tecnico. E che cosa hanno fatto per realizzare una nuova collezione? Non hanno comprato un progetto, hanno comprato un concetto e hanno comprato una palette di colori dalla Le Corbusier Collection, cioè la fondazione di Le Corbusier, mitico architetto Le Corbusier, francese che conoscerete, ha una fondazione ovviamente, e Le Corbusier nel 31 e nel 59 aveva già schedato, cioè prototipato, una gamma di colori, perché Le Corbusier già nelle sue architetture usava la policromia, guardate che bello. Queste sono già delle architetture che vedete, firmate Le Corbusier, dove l'impiego dei colori è assolutamente protagonista, guardate questo condominio di Berlino, che meraviglia. Quindi, aveva già codificato le sue teorie sul colore, ogni colore corrispondeva a uno stato d'animo. Che cosa ha fatto Gigacer? Ha contattato appunto Le Colors di Le Corbusier, e ha, dette in maniera semplice, acquistato la possibilità di poterli impiegare. È un po' come i pantoni, no? Quando usiamo Photoshop, il pantone è una codifica specifica per avere quella tonalità lì e non un'altra, uguale Le Corbusier. Quindi, il reparto grafica di Gigacer, vedete che ci sono i due luoghi di fianco, c'è Gigacer a sinistra e Le Colors di Le Corbusier, ha impiegato queste palette colore, utilizzando i propri materiali, con un proprio gusto, per realizzare una collezione nuova, che si chiama LCS Ceramics. E andiamola a vedere. Eccola qua, qui vedete i formati che sono possibili, la collezione è composta appunto da elementi chiari, da elementi rigati che vedete sulla destra, e da queste lastre sottili, di una dimensione particolare, perché ricordano proprio le stripes, le strisce che spesso utilizzava Le Corbusier, che sono addirittura smaltate, quindi il colore protagonista. Eccole qua, qui c'è la famosa chaise longue dell'architetto, e dietro ci sono le piastrelle realizzate dalla Giga Cerco e Colors di Le Corbusier. Possiamo giocare in tante maniere, gli architetti sono liberi di sbizzarrirsi, questa è la LCS 1, è la prima collezione con queste grandi strisce colorate e smaltate, quindi è grass smaltato. Mentre queste sono invece la collezione numero 2, dove avete notato come qui in fiera ci sono, capita spesso quest'anno di vedere questi inserimenti anche metallici nelle piastrelle, questi sottili listelli. La Giga Cerce era già arrivata qualche anno prima, aveva già iniziato a cavalcare questo gusto, questo modo di lavorare in basso rilievo, inserendo il colore, come adesso vediamo con i metalli. Ed eccole qua. Visto che il protagonista è il colore, anche tutta la campagna grafica è coordinata. La stessa immagine, guardate, ve la ripropongono solo con colori diversi e non ve le ho messe tutte, ma poi cambiano. Ecco, quindi questo era un esempio di come oggi si può lavorare. Vi abbiamo fatto vedere un po' di eccellenze e di tendenze. Poi è ovvio che le fabbriche, la produzione non si può fermare mai, quindi c'è da dire che questo va considerato. E che quindi queste eccellenze del 2% fanno sì, come vi spiegavo, che cambia un gusto, però comunque ci sono anche dei filoni classici e tradizionali, come quello dell'imitazione dei materiali, o come quello di piccoli inserti, che continueranno sempre a creare una base. Detto ciò, io vi ringrazio molto per il vostro tempo. Se avete qualche domanda, sono a vostra disposizione. L'ultimo minuto, vi chiedo soltanto un minuto per dirvi che io sono coordinatore di questo istituto tecnico Emiliani, le iscrizioni sono aperte fino al 16 ottobre, voi siete ancora a scuola, quindi non sono per voi, però iniziate a guardare magari quelle che sono i vostri orientamenti futuri e se avete bisogno guardate anche la passina Instagram, seguiteci. Grazie a tutti.